ciao ragazzi buongiorno ciao 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 Roberto buongiorno buongiorno allora qui abbiamo oggi parliamo di rugby seven che è una cosa che ho già fatto però insomma ritorniamoci a parlare sopra perché il vostro io ho parlato della nazionale mentre invece questo è un club giusto confermo confermo club inviti club inviti esatto esatto allora presidente alberto stival tu hai una storia particolare perché si trevigiano ma ti sei trasferito in età presumo scolare in svizzera tedesca dove il rugby lì era per sacchè sconosciuto però hai sempre essendo di treviso ce l'avevi a dors ce l'avevi dentro poi sono andati in irlanda a fare l'erasmus e gli è scoppiato l'amore dico bene sì quasi tutto perfetto in realtà sono più nato in svizzera ah ok non sei trevigiano scusami i miei sono di trevigiani e quindi ce l'ho un prana e sangue però sono nato poi già in svizzera a svizzera tedesca dove effettivamente il rugby mi ricordo qualche compagno di classe giocava c'era la squadra di football piuttosto la svizzera una discreta tradizione anche nel football in certe zone e di fatti la squadra di rugby nella città dove io sono nato esiste adesso da una decina d'anni ma io ormai da più di 20 ho lasciato la svizzera tedesca vivono nella svizzera italiana e effettivamente seguivo il rugby un po da lontano seguivo un po la benetton nazionale effettivamente poi l'erasmus ai tempi ancora del cinque nazioni in irlanda è stata poi la la goccia che ha fatto traboccare al vaso e poi tornando per lavoro cercavo 12 13 anni fa volevo fare un evento di team building io mi occupavo di formazione per gente che lavora in banca si trattava di un corso di che su più anni volevamo creare un bel team all'inizio e lì scopro un po per caso che gianfranco ed altri avevano creato la squadra lugano proprio da un anno neanche prendo contatti dico ma io vorrei fare un team building poi se vi serve uno che guida il pullman che porta le borse qualcosa ma sì allenati un po con noi fa gianfranco ma sì dai ma una volta in panchina nella seconda squadra giocaci insomma alla fine mi hanno tirato dentro e ho iniziato a giocare all'età in cui altri magari smettevano tu eri integro hai capito c'è gianfranco è stato furbo perché tu eri integro gli altri erano tutti rotti detto vieni qui che giochi che giochi assolutamente allora così è stato presentiamo anche gianfranco gianfranco tu sei una persona conosciuta nel mondo vale perché sei adesso sei direttore sportivo però sei stato extra visium poi benetton zurro casale insomma diciamo che hai avuto hai anche un palmarès interessante diciamo che la mia fortuna è stata di nascere nel senso dai sei anni ho abitato a san giuseppe che era la fucina del rugby trevigiano in assoluto dai vari francescato zanonga ma di orobazza e tutti loro erano erano di quelle zone quindi la fortuna anche di abitare proprio confinante con i campi diciamo dicevamo noi dei francescato mi ha portato a giocare a rugby prima ancora di cominciare andare forse alle scuole elementari e poi lì san giuseppe forse anche treviso all'epoca non c'era il calcio o era poco seguito il rugby era lo sport di tutti lo sport che si giocava nei campetti dopo scuola la domenica sabato c'è tutti i momenti erano per il pallone ovale si quindi il primo club che mi ha preso con lui proprio è caso di dirlo è stato la tarvisium all'epoca c'erano le categorie erano quelle dei pulcini aquilotti gli aquilotti mi ricordo cadetti e giovanile non c'era ancora la prima squadra della tarvisium quindi giocoforza e chiamiamoli così più meritevoli quando avevano i 18 anni uscirono dalla giovanile venivano presi sotto le ali della benetton che poi li portava avanti e io ho seguito quel percorso con poi degli sbocchi diversi però la mia storia è nata lì tra parentesi scusami il tarvisium non era mica proprio stato fondato del francescato diciamo che era in un pizzolato prima di tutti con natalino col nostro caro scomparsa natalino cadamuro arbitro internazionale forse uno dei più grandi arbitri che abbiamo avuto come immagine all'estero e chiaramente i fratelli francescato facevano quasi una squadra nelle varie categorie io ho avuto la fortuna di giocare con i con tutti praticamente da nello bruno rino e manuel luca e ivan e quindi li ho conosciuti sia nella vita da scolaro con per noi il papà era nello francescato prima su tutti che era quello che che c'è il che ci teneva come proprio per mano in tutte le vicissitudini poi c'è il famoso bar dell'antonia che è stato ripreso in varie occasioni e tutti i momenti erano lì o col bigliardino o guardare le partite di rugby o guardare i nostri campioni che erano che erano quelli che all'epoca avevano i vent'anni noi ne avevamo sette o otto quindi fantastico è stato gioco forza non potevo fare altro eh sì no no tu eri destinato cioè non avevi alternative o quello o quello assolutamente poi dopo ti sei trasferito sei stato ovviamente a treviso poi dopo anche tu hai scelto di andare in svizzera sì per motivi di lavoro io da treviso mi sono trasferito in svizzera vent'anni fa ormai quindi di acone è passata però la voglia di far qualcosa nel rugby mi era rimasta quindi dopo un anno due di stand by e di diciamo di sonno quando mi hanno proposto di dare una mano non ho potuto dire di no che è sembrato vero abbiamo cominciato con una squadra diciamo io li dico simpaticamente di birraioli perché c'era la birra anche in panchina durante la partita quindi quindi era una cosa molto però era molto vicino anche i valori del rugby che c'erano all'epoca in italia e nelle province diciamo e ci siamo iscritti alla serie c come come bisogna fare e in due anni abbiamo vinto c e b e siamo stati promossi ma senti scusa una cosa la struttura la struttura della federazione svizzera come si chiama allora adesso io questo questa cosa la passo alberto che conosce proprio bene sì che lui conosce molto meglio le strutture comunque è un campionato a tutti gli effetti con delle categorie con delle quali uguali a noi uguali a noi con le stesse regole dell'international quindi non non la differenza è che a mio avviso se vogliamo dare un paragone una una squadra di serie a svizzera è come una discreta b della nostra nel nostro campionato adesso alberto vi dirà quello che non posso dire io no no beh swiss rugby come si chiama una federazione svizzera e tra l'altro proprio quest'anno si festeggiano i 50 anni cioè primo campionato del 72 quello che è facilmente immaginabile per magari chi ci ascolta che appunto la svizzera è la caratteristica delle tre lingue quindi delle tre zone culture anche diverse svizzera francese svizzera tedesca svizzera italiana e bisogna dire che il rugby ha sempre avuto il suo fulcro nella svizzera francese e ben chiaro che niente con la vicinanza ricordo proprio con gianfranco una di quelle partite che per essere promosso in serie a siamo andati a giocare io guardavo ma quelli forti della squadra hanno giocato la partita contro il cern tra l'altro il cern di ginevra dove che però più che i fisici nucleari c'erano i fisici palestrati dai campionati francesi che magari finivano prima perché questa è una particolarità il campionato svizzera solitamente dura un po di più perché c'è una pausa invernale abbastanza lunga e vi ricordo che il campo addirittura del cern era in francia non era neanche più in svizzera ecco quindi fino a pochi anni fa il campionato svizzera di serie a è sempre stato vinto da una squadra delle zone tra ginevra lo span nella svizzera tedesca quello che portava diciamo avanti il rugby erano i tanti tante persone che venivano a lavorare magari a zurigo lucerna basilea dall'estero anglosassoni soprattutto difatti quando giochi contro le squadre di zurigo basilea alla fine metà squadra magari sono in realtà non svizzere ma gente che per lavoro si trova in quelle zone con delle franchigie mettiamola così sì ma magari stanno anche lì tanti si trasferiscono magari anche a vivere lì però ecco portano la passione dal loro luogo d'origine e nella svizzera italiana il rugby è nato una quarantina di anni fa poi appunto con la prima squadra il rugby ticino per rugby lugano appunto 12 13 anni fa mi sembra 15 anni fa forse ormai già era il 2007 2007 15 anni e si parla di circa allora dire 5.000 tesserati in svizzera secondo me è una cifra un po alta si però si parla di 5.000 da da bambini a holds che praticano il rugby per essere un paese che di tradizione regnistica cioè non è lo sci capito si poi deve considerare qui ecco chi piace uno sport magari di contatto gioca qui c'è l'hockey anche che 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 è uno sport molto molto seguito certe parte anche più del calcio quindi la concorrenza non è poco tutto sommato sì penso appunto che siano veramente considerati dal dal bambino agli holds e è una cinquantina di di squadre di cui appunto una parte importante nella svizzera francese sicuramente magari concludo col fatto che comunque negli ultimi anni secondo me l'interesse un po cresciuto perché anche per esempio alla finale dei mondiali viene sempre trasmessa anche dalla tv di stato lo sport un po di nicchia perché appunto calcio ok sci alla mano molto anche nella svizzera tedesca sono molto più praticati però l'interesse è cresciuto beh va bene l'importante come al solito l'importante iniziare poi dopo se quando il treno in corsa magari si 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 tirano su un sacco di passeggeri anche in maniera inaspettata sentite io come dicevo prima sono un amico di Orazio Arancio che era team manager della della nazionale italiana di Seven ho fatto con lui a Parma un incontro molto interessante perché ho fatto la giornata insieme a tutti gli azzurri con Andy Wilk come allenatore e ho partecipato a questa cosa molto divertente molto piacevole è stato perché ho visto che ho vissuti proprio all'interno e voi avete fatto la stessa cosa però la peculiarità vostra è che appunto come mi diceva prima Alberto lo fate su invito come funziona Seven Sears senza poi Sers o Sears? allora diciamo originalmente e anche adesso sarebbe Sers è un acronimo sarebbe Svisra italiana Reg B7 che però anche è Sers nel significato puro inglese in cui si dice signori che giocano uno sport da diciamo da burberi come come quella famosa frase quindi questa cosa è nata perché analizzando la mia volontà con Alberto di fare questa questa associazione questa squadra ci siamo resi conto che non c'era uno zoccolo per poter farlo diciamo a buoni livelli ci voleva del tempo perché già era era faticoso avere l'organico per il 15 quando io allenavo e quindi pensiamo figuriamoci nel Seven dove c'è una ci vuole un po di specializzazione quindi abbiamo pensato di sfruttare le mie conoscenze sul campo nel senso che sono amico di molti giocatori di un certo livello anche anche esteri perché giocavo con Wayne Smith con Gray Green Zinzan Brook e tanti altri e quindi ho detto proviamo a sfruttare le mie conoscenze e dire il vero le capacità ho detto Alberto tu è di marketing di mediazione di conoscenze comunque nel mondo anche che è quello dello sponsorship quindi siamo partiti facendo questo programma però senza delle pretese subito al momento troppo alte, quindi abbiamo cominciato a fare dei tornei tra virgolette più piccoli e abbordabili per sondare un po' il terreno poi è andata bene, è vero Alberto? Sì, sì poi devo dire io l'ambizione l'ho sempre avuta l'ambizione secondo me è giusto averla anche un po' grande qui parliamo di un club dove i giocatori sono normalmente comunque semiprofessionisti o a volte anche professionisti, però tutto il resto a noi è tutto volontariato e ci tengo anche a dire che è un po' una regola che ci stiamo a dare, perché anche noi giocatori non li paghiamo per giocare, rimporsiamo le spese albergo, vitto, alloggio, aiutiamo il più possibile, però quello che era un po' lo spirito originario, non del rugby si gioca per piacere in particolar modo forse ancora di più a Seven però quindi l'ambizione era di fare qualcosa di arrivare un po' lontano mettendo assieme come diceva Gianfranco le varie competenze sfruttando la sua la sua grande rete e devo dire che proprio ecco parlavi di Orazio Arancio ecco proprio la prima volta che io Gianfranco probabilmente l'aveva già incontrato forse anche si erano anche già scontrati da giocatori ma quando io lo incontro tu con Orazio hai giocato Orazio è più giovane però è più giovane però io ci ho giocato contro la Benettona contro sì ci ho giocato anche contro quando io ero a Casale poi lui era diciamo appena arrivato a Benettono ah ok però me lo ricordo già all'epoca diciamo delle famose partite con le squadre sicule che erano sempre motivo motivo di discussione in campo quindi sai com'è sono dei bei ricordi comunque anche quelli di stima e di rispetto certo scusa Alberto ti avevo detto no 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 era per dire che invece la prima volta che io a me non mi ricordo di aver incontrato Arancio è stato alla Roma 7 dove appunto lui team manager della Nazione Italiana e noi forse non il primo anno ma il secondo anno Gianfranco quando siamo arrivati in finale dove appunto abbiamo battuto l'Italia ai quarti la Francia in semifinale poi abbiamo perso solo col Sudafrica ma avevamo una squadretta con Brandon William Scott Palmer insomma tre o quattro proprio scappati di casa no una bellissima poi avevamo scoperto questo avevamo Nick Thompson che era un Ex-All Black di Seven c'era Troy Nathan Troy Nathan esatto Durant Gerber Durant Gerber sì ce n'erano tre chi di nomi esatto una bella squadra e lì mi ricordo appunto l'exploit insomma per noi battere un nazionale come l'Italia Roma poi anche la Francia che comunque era una squadra che aveva dentro un po' di giovani ma anche alcuni titolari che poi aumento insieme a quell'anno lì il titolo a livello europeo ecco lì quindi abbiamo incrociato per una volta Orazio e da subito ecco ho rivisto in una persona poi che sono venuta a farci complimenti cioè molto molto fair play così come poi è una di quelle persone che dici anche la seconda volta che lo vedi sembra che lo conosci da tutta la vita è vero è un generoso è un grande comunicatore uno molto aperto è una brava persona ma scusate una cosa ma come fate a coinvolgere ok le amicizie cioè perché tu Gianfranco ovviamente cioè ma come fate a coinvolgerli non so dalla Nuova Zelanda dall'Australia Sudafrica piuttosto che Inghilterra Francia cioè non è così semplice no dobbiamo partire dal presupposto che il positivo è che non abbiamo bisogno di allenarli nel senso che sono tutti giocatori finiti come preparazione sia tecnica che atletica li prendiamo normalmente a fine campionato quindi sono anche saranno anche un po' stanchi però comunque sono in forma e noi creiamo uno zoccolo su cui ruotano poi tanti altri inviti a seconda della disponibilità sappiamo che li facciamo radunare uno o due giorni prima li mettiamo in campo a seconda delle caratteristiche che loro hanno come giocatori chiaramente nel 7 sappiamo che sono diciamo sono preferiti quelli veloci atletici e che comunque al giorno d'oggi anche se prendi un tre quarti lo sai meglio di me e sono come le terze linee di una volta io che io adesso come adesso forse sarei quasi come un mediano di mischia nel senso che sono tutti mostri fisicamente e tecnicamente i piloni sanno fare gli offload e sanno passare hanno una tecnica ormai talonatori che vanno talonatori che vanno in meta come se non ci fossero domani esatto come se fossero delle ali col campo libero sulle batterie quindi non dobbiamo stupirci di nulla quindi fatta questa prima selezione che normalmente faccio io mesi prima nel senso di dire cosa mi serve per una squadra competitiva comincio a sondare privatamente questi giocatori che in parte sono già conosciuti in parte mi vengono presentati da altri giocatori e quando proprio non so come fare faccio una chiamata al mio amico Wayne che mi segnala dei giocatori a livello internazionale che giocano in Francia piuttosto che in Inghilterra magari che sono verso fine contratto e che quindi potrebbero essere liberi non dimentichiamo che per poter usufruire di questi giocatori noi dobbiamo avere il permesso le liberatorie e i consigli dei club per cui lavorano qui apro la parentesi poi la chiudo velocissimamente la difficoltà maggiore nella disponibilità dei giocatori devo dire che ce l'ho con i club italiani quindi pensiamoci anche a fine stagione eh a fine stagione cosa succede che chi finisce un contratto con un club sta già pensando al rinnovo quindi quando pensa a rinnovo c'è questa paura che ormai è fobica dell'infortunio anche se poi permettimelo ce li ritroviamo tutti a Lignano al Beach Wallet dove sì scusa al Beach Rugby dove spalle caviglie ginocchia è proprio lo sport giusto per collaudarli però capisco anche che in Italia le panchine sono sempre un po' corte quindi c'è necessità di avere giocatori in forma e gli stessi giocatori sai in età dai 20 anni ai 30 il tuo pensiero è avere un impiego chiamiamolo così avere una collocazione sportiva che ti permetta di studiare di andare all'università di fare quello che devi fare quindi rispettiamo normalmente un aiuto grande ce l'ha sempre dato Andy Wilk che quando ha una rosa di 30 giocatori e sa che può portarne via 20 o 22 ci mette a disposizione cioè va lui personalmente a proporre ai suoi ragazzi di venire con noi per tenersi in forma per giocare a un buon livello per restare nel circuito della nazionale quindi e poi potrò parlare di Orazio ma adesso lasciamo a parlare un po' anche al nostro presidente a proposito presidente ma qual è come è il fattore burocchia sono curioso di questo il fattore burocratico cioè voi in base a che cosa li convocate cioè voi non siete per lo meno una domanda siete riconosciuti dalla federazione svizzera come Seven ma non siete la nazionale svizzera di Seven giusto? certo certo no no siamo un club ben viti come comunque ce ne sono ce ne sono tanti siamo un'associazione la federazione ci conosce siamo sempre coinvolti ehm quando si tratta di Seven a livello svizzero siamo sempre coinvolti appunto dalla federazione svizzera però evidentemente non abbiamo nostri tesserati perché nessuno dei nostri giocatori poi gioca al campionato svizzero e anche è vero che normalmente adesso al di là forse di quest'anno che siamo andati a Dubai spesso si gioca appunto nel periodo dell'anno in estate dove i campionati sono fermi il campionato svizzero appunto ha questi anche periodi un po' diversi quindi fermo abbastanza lungo ogni estate e quindi sai è un po' secondo me è proprio un po' questo è come una volta no? che non il vero rugby che non c'era neanche il campionato no? che c'era era solo a in vit cioè le partite erano i test match cioè ti si giocava per il piacere di giocare come fanno i barbarian a cui chiaramente anche ci siamo ispirati devo dire che nel periodo in cui siamo nati noi forse un anno dopo un anno prima è nata una squadra simile a Ginevra che all'inizio si chiamavano proprio Geneva Barbarians e quindi è lì un po' che ci ispiriamo di fatti se abbiamo avuto degli anni dove abbiamo giocato 4-5 tornei ci sono stati c'è nessuno non abbiamo nessun obbligo quest'anno aveva Covid 2020 ha un po' rotto tutti i piani e anche l'anno scorso similarmente quindi l'anno scorso abbiamo fatto solo un torneo ed è anche un po' la strategia forse che adesso come comitato stiamo pensando di diciamo un po' la via che pensiamo di intraprendere forse meno tornei ma a questi livelli un po' più alti così anche per il giocatore è più interessante per puntare puntare proprio come il torneo di Dubai allora visto che abbiamo introdotto voi siete reduci da poco tempo da pochi giorni cerca dal torneo di Dubai che è un torneo internazionale fatto da 150 squadre ma 150 squadre di quale vere cioè di quelle che contano dico bene? allora poi lascio dire a Gianfranco però diciamo che lì ci sono tutti i livelli quindi al di là del torneo principale con le nazionali più forti al mondo poi non eravamo nel torneo successivo dove c'erano anche le nazionali che importanti che quelle che non sono riuscite a qualificarsi per le World Series e quindi sono subito sotto come si dice qui in Ticino e quindi sì il livello è molto molto alto poi appunto lascio dire a Gianfranco ma senza fare nomi ma un giocatore che alla fine abbiamo avuto qualche problema a causa Omricon avevamo tre giocatori sudafricani che all'ultimo non sono tutti venire rimpiazzati all'ultimo momento proprio e qui la bravura anche di Gianfranco di trovare ancora delle soluzioni però chiaro alla fine sono venuti dei ragazzi che normalmente nei tornei dove giochiamo noi sarebbero dei fenomeni e lì erano quasi spaesati cioè per dire il livello era però confermi Gianfranco il livello è alto perché comunque per accedervi se vogliamo dire così ci vogliono un po' di referenze guadagnate sul campo e come dicevi tu Alberto avendo fatto dei grandi tornei a Londra avendo fatto finali a Roma ci siamo meritati una discreta considerazione per cui questi tornei ad invito si chiamano invito però che non vuol dire che ti che ti invitano e pagano tutto quindi devi avere delle risorse che ti invitano ad andare poi fai tu è chiaro esatto ti sei guadagnato la possibilità di essere invitato a parteciparvi e chiaramente è tutto a tue spese da là alla z questo è perché vogliono avere la garanzia di tenere un buon livello come diceva Alberto dopo le nazionali del circuito mondiale dove ci sono questo torneo è tutto valido per le qualificazioni poi dei rispettivi mondiali c'è l'invitation man che è la categoria appena sotto dove però hai tutte le squadre invito tutte le squadre ci sono ad esempio squadre come i samurai che sono come statutano il nostro stesso tipo di associazione ad invito che però hanno dietro dei grossi sponsor e hanno giocatori ti posso dire che avevano non so forse su 12 giocatori ne avevano 10 neozelandesi tutti di alto livello poi ci sono i frogs che sono francesi anche loro tutta gente che è bazzica attorno al top 14 quindi il livello è alto sì noi quest'anno abbiamo avuto un po' di defiance dei sudafricani tra i quali c'erano due springbox proprio del giro della nazionale seven del sud africa che non essendo convocati sarebbero venuti volentieri però pazienza è chiaro che quando devi sostituire tre giorni prima perché fino a tre giorni prima non si sapeva se soprattutto le linee aeree che funzionavano o no abbiamo trovato veramente quelli che erano liberi per la serata della birra quasi quindi abbiamo abbiamo completato comunque abbiamo avuto anche un dodicesimo veramente di quelli ad hoc che era il nostro responsabile pubbliche relazioni che conoscerai il Mattia il quale volentieri si è prestato a fare i servizi fotografici e giornalistici e anche a indossare la maglietta in panchina nell'evenienza servisse anche lui come Alberto i primi tempi tutto fa uno sacrificabile magari gli ultimi 20 secondi sì perché lì ragazzi non sembra ma nel 7 non sembra nel 7 devi averne di fiato perché ragazzi e anche bisogna un po' sfattare il fatto che si pensa che sia meno fisico è chiaro non ci sono le fasi statiche dove c'è la mischia che spinge non ci sono sembramenti però quando uno ti arriva dentro arriva veloce perché tutta gente fisica è ben preparata quindi noi abbiamo fatto un torneo dignitoso e alla fine siamo sull'ottavo posto che ci serve per comunque per fare esperienza per capire dove si può anche migliorare e speriamo di poter organizzarci e di avere meno sorprese perché è un po' così ma scusa una cosa questo ottavo posto no vi consente di essere dentro in una fascia di ranking più alto o in Seven questa cosa non c'è cioè è un'altra regola per i club a invito no per i club a invito no queste poi come nazionali entrino tutto nella dinamica appunto poi delle World Series ma con i club a invito no no tra l'altro prima stavo un po' sorridendo perché quando Gianfranco diceva no sfatare un po' il mito che magari c'è meno contatto eccetera mi ricordo la finale con Sudafrica Roma ho proprio in mente una scena di alcuni nostri ragazzi che giocavano forse al tempi era non so se era il top ten o eccellenza il massimo campionato italiano mi ricordo proprio la scena ricevuta la palla dopo una frazione di secondo ne avevi 5 che ti placavano a 200 all'ora questi qui sentivo l'opera sembravano il sangue come degli squali cioè ti arrivavano dei tram sì cioè non è proprio duri proprio duri sudafricani si sa io ricordo in particolare un paio di giocatori nostri che comunque erano del giro anche della nazionale di Andy che erano sempre soliti fare belle finte cadras e step che sono stati alla prima finta li hanno incartati e li hanno portati tipo 25 metri indietro senza neanche chiedergli il nome e cognome insomma quindi è stata una lezione di rugby a tutti i livelli quindi da lì siamo partiti dicendo bene adesso siamo arrivati a fare questa finale con Sudafrica andando avanti dobbiamo pensare a rinforzare certi reparti che sono vitali ovviamente un aneddoto simpatico che a fine partita è stato l'ultimo torneo che Brandon Williams ha giocato in Italia e poi con la famiglia è tornato in Australia e per noi comunque è evidentemente anche un onore e mi ricordo dopo la finale l'ho ringraziato ho detto grazie mille e lui scuoteva la testa e dice l'ultima partita io non avevo mai perso col Sudafrica e dice con la nazionale australiana mi tocca finire con la scuola e io penso guarda io sono contento di averci giocato contro la finale tu sei deluso che l'hai persa perché non perdevi mai ma sentite una cosa ho percepito è evidente che questo diciamo sport sia costoso perché quando tu inizi a invitare i giocatori che vengono da Sudafrica e ok che non sono remunerati ma al tempo stesso che gli paghi biglietto alloggio e tutto quello che ne segue diciamo che è un esborso mettiamola così importante ai miei occhi quindi vuol dire che voi avete degli sponsor che sponsor sono da dove arrivano come avete fatto a trovarli eh Alberto vai tu se è costoso ai tuoi occhi lo è di più per le nostre tasche quindi immagino quindi lascio la parola a chi a chi segue veramente anzi a chi è il fautore di queste riuscite anche economiche perché effettivamente se non c'è la disponibilità per per mantenere pagare non solo i Sudafricani o gli Islandesi ma gli stessi diciamo francesi inglesi scozzesi irlandesi comunque quando vi muovete cioè voi ovviamente non è che li fate venire in Svizzera voi li fate arrivare direttamente in loco esatto quindi in quanti vi muovete voi in linea di massima beh considera che alla fine se arrivi insomma organizzato bene una ventina di persone sei con dodici giocatori magari certi tornei può andare anche in tredici perché è già previsto che se il primo giorno uno si infortuna lo può ancora sostituire e poi lo staff fisio e tutto quanto una ventina di persone servono gli sponsor tra l'altro ecco dietro appunto a Gianfranco qualche sponsor si vede di quelli di quest'anno e si vede anche il nostro simbolo che è lo stambecco quella è la vostra maglia ovviamente quella è la maglia esatto con i colori della Svizzera italiana che sono il rosso e il blu e lo stambecco si intravede un po' è un po' rovigo non volevo lo dire allora noi ogni anno facciamo una maglia completamente diversa però i colori sono sempre o blu rosso e bianco perché giochiamo anche un po' sui colori della Svizzera quindi bianco rosso o rosso e blu del Ticino quest'anno è così no vabbè gli sponsor alla fine devo dire che nasce spesso comunque anche un discorso un po' di amicizia di qualcuno che che vede con simpatia quello che facciamo perché come dicevamo prima il rugby non è uno sport così seguito qui da noi per di più noi raramente giochiamo qui quindi o giochiamo in Italia o siamo andati a Londra o siamo andati in alto a Belgrado siamo andati appunto a Dubai e quindi lo sponsor si ha un ritorno in termini di visibilità adesso per esempio questo torneo Corriere del Ticino ci ha dato una bella visibilità quindi però ecco il tutto nasce anche da un discorso di qualcuno che che penso capisce il che cerchiamo di portare avanti i valori veri del rugby insomma quello che facciamo e quindi ci sostengono anche perché vogliono dare una mano magari a questo sport di cui comunque apprezzano i valori e poi gli importi sono da a volte anche da molto piccoli a più grandi e quello che noi facciamo ecco magari possiamo ancora citare due cose abbiamo già fatto ormai sette edizioni di un premio in memoria di Ivan Francescato Francescato esatto e questo era nato uno per ricordare appunto Ivan e Gianfranco raccontato il suo legame con tutta la famiglia Francescato e due anche per per fare anche comunque un evento in loco proprio perché i nostri sponsor sennò non avevano quasi mai la possibilità di partecipare a un nostro evento e lì devo dire abbiamo avuto l'occasione di premiare tutte le serate fantastiche da Yuri Chechi a Giacomo Agostini a Javier Zanetti di Bernatruzzi avete cioè la cosa che Dino Meneghin che mi lascia perplesso nel bene è che siete una realtà piccola che in realtà non esiste perché non esiste una squadra che si allena tutte le settimane e poi riuscite a fare delle robe assurde perché avete giocatori più forti andate i torni più importanti avete il premio che date i premi i nomi li hai fatti tu voglio dire cosa volete di più dalla vita siete eccezionali allora forse è anche il motivo per cui continuiamo nonostante tutti è inutile nasconderlo l'organico è ristretto siamo pochi e alla fine la molle di lavoro Alberto per quanto riguarda il marketing e tutte le diciamo le situazioni anche da seguire a livello finanziario io per correre dietro a tanti giocatori che tu sai poi i giocatori a seconda della loro provenienza hanno dei caratteri molto molto vari quando io mi trovo diciamo a confrontarmi con dei samoani dei tongani o dei figiani lì è un mondo parallelo quindi devi dimenticarti tutto quello che invece fai comodamente con inglesi scozzesi irlandesi o italiani o francesi e diciamo confrontati con realtà in cui veramente sembra che vengano da un altro pianeta scusami dai sono curioso come avviene il contatto devi chiamare uno alle figi come fai io so dove gioca perché non è che io diciamo pretendo che quelli che diciamo nelle isole ci saranno tanti campioni che non sono neanche mai nemmeno mai stati scoperti noi vediamo quelli che vengono a giocare in Europa e quindi io li contatto presso i loro club che possono essere club più importanti in Francia come il Bayonne o lo Stade però potrebbero anche essere in Inghilterra delle squadre di seconda divisione che comunque sono molto forti il problema sostanziale sta che finché sono nelle loro squadre sono molto caduivati dai loro compagni diciamo europei quando li prendi singolarmente è difficile non sai tu finché li vedi smontare dall'aereo che sei lì forse ci credi io ti posso solo dare un aneddoto sono affidabilissimi mettiamola così ma non per loro per loro caratteristiche loro arrivano quelli infradito con un sacchettino e quelli i loro trolli di viaggio della vita io ricordo un grande campione che abbiamo avuto ma veramente campione se parliamo di William Ryder che è stato uno dei giocatori con sarevi più amati nel mondo del Seven che insomma gli avevano trovato lo spogliatoio in Francia di fronte allo stadio e lui riusciva ad arrivare in ritardo agli allenamenti alle partite eppure lo sapevano gli hanno trovato la collocazione a 30 metri dall'entrata dello stadio ma non se ne ha servito poi quando sono in campo capisci che il fatto che loro non abbiano orario non abbiano mete non abbiano troppi impegni morali lo vedi in campo dove improvvisano assolutamente dall'inizio alla fine non c'è niente di costruito pazzesco pazzesco vabbè comunque insomma è una cosa di grande soddisfazione anche dal punto di vista proprio rapporto personale perché conosci un sacco di gente anche se sono un po' diciamo particolari definiamola così è però bellissimo quello senz'altro io e Alberto diciamo sempre quando arriveremo alla pensione avremo solo diciamo il dubbio della scelta di dove andare se vogliamo muoverci andare a trovare qualcuno nei paesi lontani perché è gente che poi ti accoglie a braccia aperte anche a distanza di 20 o 30 anni siamo contenti di questo un aneddoto forse in questo senso quando sono andato a vedere due anni fa mi sembra che era Edimburgo Scozia Italia per i sei nazioni appunto mi aspettavano appunto i ragazzi che solitamente giocano con noi avevano organizzato loro i biglietti il terzo tempo tra l'altro ecco bravissimi ragazzi abbiamo avuto veramente la possibilità di conoscere ormai più di 100 la lista c'era Gianfranco ragazzi veramente squisiti e poi quello che cerca di fare anche sempre Gianfranco che mi piace molto e anche trovare un po' un mix solitamente le squadre hanno sempre alcuni campioni però anche alcuni giovani magari meritevoli che per loro è una bellissima esperienza poter giocare il torneo a fianco di certi giocatori il giusto mix non tutti i campioni ma anche dei ragazzi che comunque meritano mi viene in mente quella scena che era successa sempre a Roma ti ricordi Gianfranco quel ragazzo di Treviso che con William Ryder cosa aveva detto che gli dice ma veramente posso dare la mano a William Ryder ha chiesto questo giocatore era veneto che lui e gli dà la mano e William Ryder mi dice nice to meet you e l'altro mi dice no no me nice to meet you ma mi ha fatto morire da ridere perché lui diceva me secondo me in dialetto veneto però casualmente era anche in inglese no? no no me sono me che sono contento no 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 beh certo quello era un ragazzo che poi ha avuto una bella carriera con Rubigo una seconda linea prestata poi alla terza linea sono aneddoti che poi restano sono belli dovresti scrivere un libro a questo proposito perché sono tutte cose così interessanti così divertenti e piacevoli quindi cento ne avevi più di cento eh sì 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 ormai sì in dieci anni in dieci anni penso che avremmo raggiunto di cui abbiamo tutti i contatti chiaramente certi sono ormai un po' fuori fuori età per il seven però come diceva Alberto io cerco di 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 creare un mix ed è anche una scelta secondo me abbastanza azzeccata perché il fatto di mettere giovani perché metti fiato e gambe nel seven è importantissimo avere qualcuno che ti fa la differenza nel momento giusto cioè che fa il buco oppure fa la galopata di 80 metri sulla fascia e però questi questi diciamo ruspanti hanno bisogno di avere una direzione ed è per quello che prendiamo sempre tre o quattro giocatori che magari non sono più così sprint così veloci però in campo mantengono l'ordine e fanno da calmiere per creare il gioco quindi ci sta ci sta la differenza per l'età sia per la fisicità sia per l'esperienza certo quando è che avete dato il premio Francescato l'ultimo Alberto sì l'ultimo purtroppo causa Covid perché cerchiamo sempre di fare un bel evento e non l'abbiamo voluto fare negli ultimi due anni online è stato con Cavie Zanetti qui a Lugano dove tra l'altro sono nerazzurro io ecco ecco e io capitano esatto e io no però quasi quasi lo diventavo quella sera perché è una personalmente squisita e tra l'altro in quella sera abbiamo fatto una cena di raccolta insomma una cena di gala abbiamo tutto ricavato andato alla sua associazione Pupi ecco anche lui guarda dicevamo prima di Orazio dopo la cena sembrava che lo conoscevi da una vita cioè si rideva si scherzava e quello ecco noi non abbiamo premiamo sempre degli sportivi che non sono regbisti ma non perché non vogliamo premare dei regbisti ma perché vogliamo ci piace l'idea di prima delle persone che secondo noi hanno lo spirito del regbista ma in caso ha voluto che magari hanno fatto un altro sport mi viene in mente per esempio un Cadele Evans che ha vinto il Tour de France che è un lottatore pazzesco o lo stesso che aveva Zanetti o Dino Meneghin cioè tutta gente che se avessero giocato a rugby sarebbe stati comunque campioni anche lì e guarda lì per dirti un aneddoto di un personaggio che forse a te non dirà molto ma Bernard Druss è stato uno degli sciatori svizzeri più importanti è stato il primo svizzero a vincere la medaglia olimpica in discesa libera e mi ricordo una cosa da pelle d'occa per me perché poi Bernard Druss in Svizzera è come dire Roberto Baggio in Italia tutti lo conoscono e quando le abbiamo dato insomma come tomba sì esatto quando le abbiamo dato il nostro premio che è una una forma di una pallovale fatta in legno da da un'associazione tra l'altro che coinvolge anche ragazzi con handicap e lui ha detto questa frase ha detto le mie medaglie sono esposte al museo ogni tanto si frizza ogni tanto Alberto però un posto d'onore sopra il mio cammino e ha detto beh fantastico ce lo ridici perché tu tu ciclicamente mi spiace l'hai sentito? no ce lo ripeto mi sono accorto mi dispiace siamo arrivati al pallone ecco gli abbiamo dato questa forma del pallone fatta in legno e lui ha detto le mie medaglie che ho vinto i mondiali olimpiedi sono esposte al museo questo premio sarà sopra il mio cammino sì giusto in casa quindi la pelle d'occa assolutamente sì senti è stato bello avete ancora qualcosa da raccontare? sì un casino sai poi quando quando afflorano ricordi ce ne sono ce ne sono tantissimi adesso mi piace un attimo l'idea di focalizzare sui programmi futuri e non è proprio perché stiamo vagliando se fare un torneo o due un po' più tranquilli in Europa per preparare lo zoccolo per preparare un po' quello che sarà poi Dubai e appunto io e Alberto ci troveremo a breve per mettere giù un piano di lavoro non ultimo il fatto che tramite qualche altra conoscenza ho avuto anche un invito per Singapore lì a Singapore e Hong Kong fanno altri due bei tornei a livello mondiale scusami se non sbaglio perché io mi occupo più del 15 il 7 lo seguo ma Singapore è uno delle mete del 7 giusto? esatto dove fanno sempre una tappa mondiale lì bisogna anche considerare diciamo dei fattori un po' di mentalità ecco andare qualche giorno a fare un torneo del genere bisogna avere anche dei giocatori che entrano in un certo ordine di idee un gioco diverso e anche diciamo usanze diverse li vedremo un po' quello che potrebbe essere più interessante e questo lo deciderò insieme a Alberto comunque senz'altro stiamo già lavorando per il futuro perfetto va bene allora sentite facciamo una cosa quando andate poi a fare qualche altro torneo tipo quello di Dubai mi invitate io vengo vi aiuto sono produttivo faccio le interviste ci porti i paradenti vi porto i paradenti e poi faccio le interviste mi occupo di questo quindi vi sgravo da una cosa no scherzo quando lo fate però sentiamoci che facciamo magari fate vedere una ripresa facciamo vedere uno spezzone di partita insomma ne parliamo ecco ti dico tornando a Orazio Arancio forse l'abbiamo un po' bypassato a un certo punto la qualità della persona di uno sportivo la vedi anche in altre situazioni cioè lui ancora prima di salire con noi ci chiedeva di cosa avevamo bisogno e una volta scesi dall'aereo si è preso le borse delle maglie senza neanche guardarsi attorno e se le portava lui quindi è apprezzato è apprezzato proprio come persona più che più che chiaramente come grande tecnico grande giocatore e poi a livello internazionale lui con l'esperienza che ha avuto con la federazione italiana è una grande fucina di conoscenze di consigli che terremo veramente in considerazione bene sono contento per Orazio che comunque è un professionista molto preparato ce l'ho visto è ottimo sul campo è veramente molto in gambo va bene sentite io vi ringrazio e rinnovo l'invito per un torneo importante o quando avete anche il premio Francescato di solito e che stagione lo date allora solitamente lo facevamo verso fine anno e ci stavamo organizzando appunto adesso per novembre scorso dicembre volevamo anche premiare una donna perché un po' per caso non avevamo ancora premiato una donna adesso non dirò chi ma abbiamo preso alcuni contatti però abbiamo pensato era ancora periodo comunque covid e così ci dispiaceva appunto cioè dare il premio tanto per averlo fatto e fare un evento online e quindi ormai penso sarà a novembre di quest'anno l'ottava edizione va bene vi aspetto vi aspetto comunque per novembre abbiamo il nostro appuntamento che lo facciamo dopo la premiazione ovviamente così possiamo fare delle foto mettere un uno spezzone di film insomma parlare di questa cosa d'accordo? ok grazie volentieri grazie a voi è stato bellissimo divertente mi è piaciuto è stato un piacere nostro e a presto Roberto ciao e buon raggio a tutti come sempre ciao esatto buon sei nazioni e buon sei nazioni